Tutto in istante casta? Si Quanghito support E' il quanghito della noce support Non so come partire Mi conviene portarmi avanti con Con la Ximia Ma tanto alla fine 600 gold li faccio in niente Tanto 600 gold li faccio veramente in niente Quindi posso tornare tranquillamente Voi sani Sì Oh Oh eh quando non mi senti fammelo sapere perchè... già sai va bene microfono e la duolin ovviamente dorme ovviamente dormono quanto più mi aiuti a dire la ribella adele 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 jungle c'è anche un'interessante si perchè col fatto che hanno aumentato i danni ai minion secondo me jungle è diventato abbastanza viabile l'unica cosa è che ovviamente hai solamente una skill per più si oh questa stile si ha fatto la doppia va bene così tipo vabbè io cioè in realtà non mi ne manca forse che stai tu tu? scusami dove l'hai visto? si interessante ah l'hai visto si hanno messo le la roba nuova che stanno facendo madonna mia se callare gli mettono la c***a del doppio salto cioè no ma quella a mettere io la mettono però ti posso dire una cosa cioè alla fine cosa può servire nella nostra mappa cioè assaltare forse il pit dello spirit e basta eh vabbè 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 se mettono le passive le fanno uscire tutte insieme ma che senso ha c'è champion con la passive senza champion senza oh a mind hai visto che è tornato mind sei contento? sei connetento? cazzo è la xim e chi la roba f***ing bugs bugs intende... con la A ovviamente ragazzi non con la... non con la U zaini e... ah questo qua sta nella pagina dei primi ho provato male... cioè manco con i boi nooo guarda la nooo guarda la cazzo camera cazzo camera non male non male questa deluccia non normale adesso si che l'hai fa danni porca puttana no guarda che pulisce rapissimo secondo me se gli metto pure un po di magic al power secondo me pulisce ancora più il problema è che la e c'ha troppo cooldown bella bella cioè più che il po mi farei più la mila no non ci morì non ci morì non ci morì dimm lascia non ci morì sta arrivando non ci morì non ci morì ma che cazzo guaiu la ulti fa troppi danni no no fa proprio troppi danni ma l'ho missato mamma guaiu è esploso quel camera è saltato in aria mi guarda una mano merda è un po trollo per la verità statistiche di 4d però nooo comunque mi sto tutti i cazzo di grab non ne piglio uno quello è il grab dove tu stai mirando quindi pure se... no no non ci posso credere ma vanno lascia... se ne sono andati letteralmente se ne sono andati ciao scal buongiorno se ne sono andati mezz'ora a fightare e se ne sono andati ma sti pezzi di merda grazie al cazzo che mi arrivano e fanno le kill puh chi va morto ah va buona stronzo io che gli vado appresso devo jungla sto perdendo un sacco di livelli la no 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 Oh, arriva lui in basso, non vedi? Sto vi ingaggiando? L'hanno lasciato da solo Mi hanno fissato il primo del flink Comunque l'AE fa dei danni abbastanza huge Sì, considerando che c'è solo un oggetto, diciamo, offensivo Abbastanza huge proprio La mia manco ti dà stati stiti a calo, non capivo l'AE Qua sei Nooo, fuck me Wow, marron, mi ha contruttato la tele Ci siamo sciolti dal sole proprio Bad drive Ah, buona affanenda, abboniti Bad drive Vabbè, la torre l'abbiamo presa comunque Sì, ma io devo un po' gianglare, ce devo livellare Guarda là, stavo livellando Indietrissimo, porca puttana Mi fate gianglare, per favore, smettete di fightare Eh no, e dai però Uffaaa A livello 9 hai il tank massimo dell'AE Quindi hai il power spike Sì Aspettate un secondo, ragà Ovviamente mi ha chiuso Ovviamente mi ha chiuso Il mio minding mi stavo per rispondere e mi ha chiuso Eh, eh, amo scusa, stavo in live E sto in live No, eh, niente, infatti Eh, vabbè, sono d'accordo con te Eh, il riso che lo mangio a pranzo Vabbè, lo mangio a pranzo Eh, va... Va bene, va bene Ma non devi stare a casa, tu Non devi stare a casa, tu No, non... Tu non devi stare a casa Eh... 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 Lo copri Ma buona Eh, dici Eh... Va bene Eh... Ha detto... Eh... C'è una bocca, c'è c'è Sì, sì, c'è c'è Anzi, scusate Questo breve inter... Questo breve... Stacchetto pubblicitario Arrivando 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 Ma comunque questa patch, mi sa che è la patch di... Un tank Ma ma io comunque scioglie Scioglie proprio Al sole Mamma mia che danniii Che danniii Che danniii Che danniii Incredibile Eh... E' un altro Sto mettendo la ward Andi cappa Ma cosa che devo testare? Eh... Fada velernosa Ti... Ti recupera la vita Sicuramente Ti recupera la vita Sicuramente Eh... Quando ulti dici? Eh minchia Sarebbe OP Sì... Eh... Quando ulti dici... Quando fai la è pure perché... Eh... Sì, sì... La pump sword funziona in recovery sulla ulti è fatta Posso... Posso andare a comprare? C'ho 2000 spari wound No? Ma che dite? Una... Una swamp clock Per fare ancora più danni Sì... Anzi... Anzi... No... Metto questo E' là... La prima di poi va Andammarino Che chi ti decide Ne hai presi due? Ah... Ne ho presi due? Cazzo... E' vero! Merda di dio E' due meglio che una Eh... Speriamo che mi fa fare... Andu Non pensa Eh... Invece no... Mannaggia la madonna Bravo me Ho buttato un sacco di soldi Vabbè Eh... Ma la ulti al 2 Mamma mia Arrivando! Ho anche la ulti! L'unica cosa che ho scelto di questo personaggio E' un'ultima della ultima No... Beh... Vabbè uno contro qua Fatto Ne faccio uscire La porca puttana Non è niente Ce l'avevo quasi sperato Mamma mia Twin Blast, mettilo con un colpo però Eh, t'ha fottuto stilo Basso, ho trollato comunque Stavo di arrivare onestamente un po' prima Voi si fanno il Prime Potrebbero Abbiamo avuto una volta il Prime Rasao, meravigliao Ma possiamo raggrupparci senza fare troppi danni? Bravo, guanghito Eh, ma dobbiamo fare tal secondo me 20 secondi alla ulti Non andare, non andare Non ti far sognare niente Dovrebbe stare Per la ultima Pianto Meno, dice Vedi, vedi Vedi, vedi Vedi, vedi Vedi, vedi C'è l'ho Vieni la mia ultima Mongoloide Madonna mia Madonna Sotto a posto Sotto a posto Allora Allora, questo lo vendo Guanghia faccio lo kata De 75 Mosi Compra, compra Senti, ma è quasi quasi dopo Mi faccio un bel guantino Così mi clincio anche i cicci Mi do un altro po' di magic al power e cure Lo sta facendo Sì, lo sta facendo Proviamo sto fight Rendita E' impazzito Oh, guarda, guarda Guardate, guardate i carry Come cazzo di Buddha Di Dio Ma uno di Deve correre appresso Ma si può fare Sto storia Eh, vabbè Però se io mi sto I grab Poi Quell'altro sta pushando mid Comunque, cioè Comunque cazzo di Buddha Ne sono uscito No, no, no Pensavo Cazzo Ne esavo di farcela Saltavando e prendendo Robo Va bene Comunque Usciamo? Vuoi pigliarti un altro fight Vuoi pigliarti Andiamo a fare Che tanto voglio dice Guarda il problema No, Weng, maronna mi Nessuno ti ha autorizzato A prenderti il mio red Nessuno ti ha autorizzato a prenderti il mio red Comunque Madonna che combo Che cazzo mi ha ucciso Mardock la sopra che ci spara Neanche fosse Ma non mi ha ucciso Mardonna mi ha ucciso di farlo Morto Mardock Comunque è assurdo Cioè Assurdo proprio quello che è successo E dopo di che Mi farei Le forbicine Così metto altro healing I'm really sorry Not Not Your bed Buona combo tra gli ideoni ad ele Comunque Comunque Bene Con due Policiamo Ma perché Quel twin blast Sta così avanti Cioè Noi ci dobbiamo prendere Un fight Che proprio non serviva Un fight Che proprio non serviva Ma è troppo fuori range Ecco qua Cioè Che senso Aveva sto fight Che senso Aveva sto fight Ma voglio scioglie Scioglie Cazzo Cioè io sono rimasto Due secondi sulla ult E sono morto Mamma santa Eh si è buildata full tank Lo so Solo full tank si è buildata Oh A mind Mind che il follo Minca Ancora non mi follo Wow Che schifo di persona Argognati We need the damage Versus armor No No We need To Stick Together Trin Can You Just Stay With us Ma sta facendo il prime What Ma che cazzo sta succedendo Basta 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 eh non so non so con camera vivo quanto conviene oddio però sei dall'altra parte della app quindi in realtà dai è più grande con questa grafica io poi secondo te me lo facevo rubare mamma voglio quanto toglie la ulti di Adele mamma quanto toglie mamma quanto toglie padre vergine mamma chido non è mettila nella roccia pure per errore cioè riusciamo a prendere gli obiettivi ma perdiamo tutti i team fight riuscirà il nostro eroe a difendere io so vediamo un po' oh hanno annunciato Richtor eh beh è la prossima faccia te lo uscì no? si 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 ora è sicuro dopo lo ce la troviamo a noi però eh comunque basta poco basta che vengono danno ogni tanto ma no ma quella alla fine ma alla fine ma alla fine guarda che cioè veramente non serve assai a sto gioco per andare bene avanti eh onesto ah boom i bug c'è bug per quanto possano provare a risolverli non arrivano tutti ecco qua il bilanciamento ah boh ma il bilanciamento ci sono giochi ci sono giochi che hanno il doppio degli anni il doppio degli anni e non riescono a bilanciarle ti pare che bilanciano questo che ne ha ma vaffanculo mi ha stunnato il grab mannaggia la madonna che è troppo forte non c'è si può vincere che ragazzi tu andai da questo fight è molto torto guarda se quel merda di trimblast si muove ma guarda che ma guarda che i danni li fai lo stesso ma hai visto che i danni li fai lo stesso cioè con la mela con la mela il guanto hai risolto cioè la voglio provare pure aggiungendo c***o lacrime chiedo scusa tutti voi spettatori per quel che vai obbligo guardare in quest live per troppo questa scena è necessario all'entrattamento istiamo cercando di risolver il problema non è il modo possibile e la settimana prossima arriva la parata di tuebeca per sopra ma donna mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia delle ragazzi signori ma che cosa stiamo parlando ma quanto è forte sta cosa comunque scusa vabbè ero troppo emozionato non ho sentito una singola parola di quello che è detto lo leggo con calma ok sto frutto prevedo non fa danni magici non conviene metterlo guarda che fa dei danni inspiegabili aia aia sono morto lo so che la fonte principale sono danni puri però con questo prendi difese metti un po' di pen secondo me non è malvagio grazie a tutti grazie a tutti